Allora, buongiorno, buona sera, stiamo qui con l'istruttore di Advan, ciao, Alessandro, io sono io, e lui è l'operatore, si parte dalla prima lezione, su come mettere la moto sul cavalletto, perché lui deve partire proprio dalla bici, lui chi è? Lui, Ambrogio Andrea da Livorno, molto dilettante, fondatore di un gruppo, aspetta, 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 proprio il micasco dove prendi, i guanti, perché lui è Ambrogio Andrea che nel 2010 ha fondato un gruppo, per chi non lo sapesse ha fondato un gruppo Ambrogio Andrea, vabbè, prima lezione, lezione, bravo, raccatta quanti, bravo, mettila sulla borsa, Luca, se la fai te, vedi qua che si vede il cavalletto, vieni qua che si vede il cavalletto, vieni qua, c'è il cavalletto di faccia, non ti cazzare, vieni qua, questo è il cavalletto, quando la metti, non devi avere il vizio di lasciarlo in giù, perché non vedi più di uno, e a scendere poi lo lascia così, per volare, non lasciare il rialzo, Gigi, mi scusi operatore, non lasciarti l'abitudine di lasciarlo in giù, cioè il rialzino perché se no non ce la fai, poi, poi, per scenderla, stessa cosa, lasci la prima inserita, ok, e tieni due dita sulla pressione, quindi, la punti giù, ma è troppo difficile a farla insieme, eh, e poi lasci la pressione, la moto la prima inserita, di modo che anche se sei in salita o in discesa, non lo lascio, la moto sta ferma, e per fare le manovine senza accenderla, senza accenderla, basta che tu dili appena appena la pressione, la moto si vede, per rimetterla sul cavalletto, il signore si vede, qui, è inutile che stai porti tanto, basta che stai appogli in piedi, così, e poi iniziamo da capo, ho impuerto a mettere la moto sul cavalletto, ho impuerto a mettere la moto sul cavalletto, un'amerato negativo, una sega, di다군 i rindo,��ando loro sono iniziammati per a vedere la moto sul cavalletto.